Ben trovati all'edizione della notte del TG6 in apertura alla cronaca si terrà domani alle 10.30 nel carcere di Chieti l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Francesco Marfisi il sessantenne che ieri ha ucciso la moglie Letizia Primiterra di 47 anni e la sua amica Laura Pezzella di 33 sempre sul fronte indagini l'autopsia con tutta probabilità verrà effettuata nella giornata di martedì prossimo dal dottor Pietro Falco per quanto riguarda dunque l'esame autoptico che dovrà chiarire come sono morte con quante coltellate le due donne intanto nella cittadina di Ortona c'è apprezzione cittadina ancora sotto shock per quanto accaduto e ci sono anche polemiche per quanto concerne la violenza di genere e il ruolo dei centri antiviolenza sentiamo tutto nel servizio si fa fatica a chiamarlo raptus il duplice omicidio di ieri sembra essere stato frutto di una lucida furia omicida che ha travolto Francesco Marfisi il sessantenne operaio di Lanciano che ha ucciso prima la moglie Letizia Primiterra 47 anni e poi la sua migliore amica Laura Pezzella 33 anni due femminicidi commessi a colpi di coltelli da cucina nell'arco di pochi minuti in due località distinte il primo nel cuore di Ortona nel popolare quartiere San Giuseppe ancora sotto shock il secondo in una villetta di campagna in contrada Tamarete a 5 chilometri dal centro non lontano dal casello autostradale dopo essere stato catturato dai carabinieri proprio sul luogo del primo delitto dove Marfisi coltelli alla mano e vestiti insanguinati era tornato probabilmente per uccidere l'amica della moglie che l'aveva temporaneamente ospitata in casa o forse per ammazzare la figlia incinta di 5 mesi che è rimasta ferita lievemente nell'interrogatorio condotto nella caserma dei carabinieri di Ortona dal PM della procura di Chieti Giancarlo Ciani Marfisi ha messo tutto raccontando di essersi presentato dalla moglie armato di coltello per spaventarla e costringerla a tornare a casa l'uomo avrebbe riferito della sofferta separazione dalla moglie parlando anche di una presunta relazione tra la coniuge e Pezzella con le due donne che si preparavano ad andare a convivere entrambe reduci dalle separazioni con i rispettivi mariti una convivenza per dividere le spese forse malinterpretata da Marfisi che proprio a Laura Pezzella ha imputato la fine del suo rapporto amoroso tra l'altro il sessantenne era stato denunciato qualche giorno prima dalla moglie che temeva l'aggressività del marito affidandosi ai centri antiviolenza un duplice omicidio che forse poteva essere evitato e che sta aprendo anche a livello nazionale un dibattito sul ruolo dei centri antiviolenza sull'ondata di femminicidio e sulle possibili contromisure da adottare l'associazione Dire, la rete nazionale dei centri antiviolenza commentando i tre femminicidi avvenuti ieri i due di Ortona e quello di Camisano Vicentino ha posto l'accento su un sistema che non funziona sottolineando come togliere le donne dal pericolo di vita sia un compito possibile ed un dovere di una società civile delle istituzioni di tutti i soggetti coinvolti nel prevenire e contrastare la violenza maschile Andiamo avanti con la pagina della cronaca sempre con Paolo Renzetti andiamo a vedere l'operazione portata a termine dai carabinieri che hanno arrestato un cinquantenne di San Giovanni Tiatino Ennio De Midio perché è trovato in possesso di un arsenale droga e soldi all'interno della sua abitazione vediamo insieme i dettagli Terente di Dalmazzi avete scoperto in casa di un cinquantenne residente in provincia di Chieti un vero e proprio arsenale droga e 50.000 euro in contatto Un ritrovamento decisamente inusuale abbiamo trovato delle armi quattro pistole e un fucile mitragliatore che può essere catalogato come arma tipo guerra e soprattutto la presenza di due silenziatori che ripeto non sono certamente parti di armi o di munizionamento che si trovano tutti i giorni due etti di cocaina e 50.000 euro in contanti ci siamo arrivati tramite delle indagini che stiamo conducendo ormai da mesi e come ricorderete hanno portato poi al ritrovamento di altre armi in altre circostanze nella città di Pescara Preoccupa soprattutto il ritrovamento di questa mitraglietta? Sì, la mitraglietta è un'arma dal potenziale abbastanza alto permette il tiro a raffica e soprattutto dotata di silenziatore apre degli scenari inquietanti ora stiamo cercando di ampliare le indagini a 360 gradi per poter capire a cosa sono servite queste armi e questo ce lo potrà dire chiaramente il RIS con le sue analisi e soprattutto capire a cosa sarebbero potute servire se per agguati o rapine o chissà quanti altri delitti la cosa che interessa a noi è sottrarre a questi delinquenti le armi perché le armi possono avere una forte valenza intimidatoria sia per quanto riguarda i reati come estorsioni e rapine sia per reati molto più gravi come ad esempio di omicidio e esecuzioni e restiamo sempre a questa notizia perché all'operazione dei carabinieri di Pescara ha partecipato anche il cane Keiko dei cinofili dell'arma sentiamo come si è mosso vogliamo un attimo spiegare come funziona quando voi andate a fare delle perquisizioni come è accaduto ieri in casa di questo cinquantenne a San Giovanni Teatino l'irriquitezza del cane vi ha messo sulla un buona traccia? Certamente, noi quando entriamo appunto nelle abitazioni, nei garage innanzitutto quando entra il cane per la ricerca di armi ed esplosivi i colleghi non hanno toccato niente proprio per non inquinare la zona perché chiaramente avendo la pistola potrebbero inquinare la zona il cane è entrato, ha iniziato a fare la ricerca e si è visto subito che era interessato perché avvertiva qualche odore forte e poi arrivato proprio nel garage, nell'autovettura della persona ha segnalato proprio sulla parte destra vicino alla ruota di scorta con il seduto quando il cane anti-esplosivo si siede vuol dire che o c'è qualcosa all'interno o c'è stato poco prima Parliamo di cani, in questo caso del cane Chico ma anche dell'altro cane specializzati nel ritrovamento di droga, armi ed esplosivi Perfetto, quell'altro cane è un pastore tedesco sempre di nome Sissi è un cane per la ricerca di droga e quando quel cane lì ieri è passato sotto il condotto dell'aria chiaramente era alta però il cane ha iniziato a guardare verso l'altro a battere la coda perché il cane anti-droga diciamo si comporta diversamente cerca di... si anima di più il cane perché chiaramente non è pericolosa la droga e ci ha fatto capire insomma che arrivava qualcosa dall'alto e per quel motivo siamo andati a guardare dentro Lei è il conduttore di questo cane diciamo che però questi cani rispondono solo al conduttore Certamente, il cane è personale ognuno ha il proprio cane e la propria specializzazione Lutto nella politica pescarese a distanza di poche settimane dalla scomparsa di Carlo Pace deceduto per alcune complicazioni seguite ad un investimento stradale per Pescara perde un altro ex primo cittadino questa mattina infatti è scomparso Nevio Piscione sindaco del capologo adriatico con la democrazia cristiana dal 24 settembre del 1986 al 26 settembre del 1988 Piscione da qualche tempo era malato aveva compiuto 80 anni da pochi mesi lascia la moglie Mafalde i figli Emilio Sabatino e Fabrizio i funerali dell'ex sindaco si terranno domani alle 16.30 nella chiesa Sacra Famiglia in via Strada Colle Pineta Ed ora siamo al terremoto il governatore Luciano D'Alfonso ha illustrato le novità del decreto legge sul terremoto che pervede anche un fondo specifico di un miliardo e la zona franca urbana Sentiamo Per la prima volta nella storia amministrativa ed istituzionale dell'Italia e dell'Europa si vara una norma che insedia la zona franca fiscale e contributiva Noi conoscevamo le zone franche, fiscali per esempio in Francia timidi tentativi anche in Italia ma mai la zona franca fiscale e contributiva per aiutare le imprese a rinascere economicamente Quali imprese? Le imprese operanti nei comuni del cratere Quale cratere? Il cratere che è stato identificato con provvedimento di Palazzo Chigi fatto proprio dal Parlamento in relazione ai terremoti del 2016 e 2017 è un provvedimento che azzera gli oneri fiscali e gli oneri contributivi per tre anni, due anni più uno per quanto riguarda le imprese che investono nel rettangolo di questa Italia appenninica che riguarda Abruzzo, Umbria, Marche e anche Lazio Accanto a questa norma che io qualifico rivoluzionaria c'è anche un'altra norma che sostituisce la capacità fiscale coincidente con gli immobili che danno luogo al contributo dell'Atari per i bilanci comunali poiché c'è stata demolizione di questi immobili a causa del terremoto ci sarà un sostitutivo contributivo da parte del governo e si continuerà nella semplificazione delle procedure io proporrò di qui a qualche settimana che la cabina di coordinamento dei quattro presenti regione e anche di Errani e di Palazzo Chigi varino anche una misura graduata per aiutare i comuni fuori cratere in zona sismica 1, rischio 1 per quanto concerne non solo la ricostruzione ma anche un aiuto alla ripresa delle attività economiche così come insisteremo per fare in modo che i comuni danneggiati da terremoto e da maltempo 2016-2017 abbiano la sospensione degli oneri nei confronti di cassa depositi e prestiti per un anno una manna dal cielo così il sindaco di Crognaletto ha definito la nuova scuola donata da Ikea al piccolo paese del Terramano colpito dal sisma del centro Italia vediamo una comunità ferita per via del terremoto e del maltempo ma che con dignità e orgoglio non si lascia battere e a volte i miracoli accadono come è successo a Nerito di Crognaletto dove è arrivata quella che il sindaco ha definito una vera e propria manna dal cielo con la realizzazione di una nuova scuola vista l'inagibilità della propria donata da Ikea che tempo permettendo sarà realizzata in poche settimane oggi posiamo la prima pietra di una struttura importante la scuola è una cerniera che garantisce la vivibilità di un territorio io ho avuto due plessi scolastici danneggiati in tipologia E quindi una ricostruzione completa con la filiera del sisma il progetto Errani ricostruiremo Tottea a settembre ma la vera vittoria è quella che già a fine mese di maggio riusciamo ad avere una scuola nuova il donatore Ikea è stata una manna venuta dal cielo che insomma ci dà un sospiro forte non solo al sindaco non solo all'amministrazione ma soprattutto ai bambini che sono la filiera istituzionale vera una scuola nuova entro maggio è una prospettiva che intanto consente diciamo di affrontare anche qualche piccola sofferenza che è ancora in corso e poi soprattutto di progettare un futuro anche scolastico molto più sereno e secondo me produttivo perché i bambini i ragazzi e i docenti sono già nella prospettiva di sfruttare questa scuola al massimo delle sue potenzialità l'obiettivo è di costruire questa scuola in 40 giorni dunque di essere pronti entro fine maggio con un progetto veramente molto bello caratteristico che porti anche un po' di svedesità all'interno del contesto del paese un dono che la popolazione di Cronialeto deve non soltanto all'azienda ma anche ai lavoratori stessi esatto è stato un pensiero a cavallo di Natale dove i nostri 7.000 dipendenti hanno pensato di devolvere il loro regalo di Natale alla popolazione di Cronialeto dunque penso sia sicuramente un bellissimo gesto da parte di 7.000 colleghi che ci sono all'interno del mondo Ikea c'è stato tutto l'impegno anche da parte dell'amministrazione oltre che del donatore Ikea che noi ringraziamo c'è stato tutto l'impegno ad aprire questa scuola prima del termine delle elezioni perché è un messaggio importante di ripresa immediata c'era bisogno anche se per soltanto un paio di settimane cominciare a stare in una scuola e finire l'anno lì la centrale unica di committenza ha indetto la procedura negoziata per la demolizione della casa dello studente di via 20 settembre a renderlo noto e l'assessore del comune dell'Aquila Stefano Palumbo l'appalto ha spiegato consiste nell'abbattimento dell'edificio residenziale universitario che ovviamente è danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e dove purtroppo hanno perso la vita tanti studenti una prima demolizione parziale era già avvenuta nell'immediato post-sisma ma il fabbricato che è ancora in piedi costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata insistendo su una importante via di comunicazione che è anche l'unica via di accesso agli edifici vicini di recente ristrutturazione l'importo dell'appalto ammonta complessivamente a circa 500 mila euro ed ora ci occupiamo del BIM i 26 comuni montani della provincia di Teramo che aderiscono al consorzio hanno eletto nuovo presidente Moreno Fieni 34 anni originario di Isola del Gran Sasso ed esponente del PD Fieni succede a Iachetti a capo del consorzio per 10 anni il consorzio BIM di Teramo ha un nuovo presidente dopo 10 anni di gestione targata Franco Iachetti l'assemblea dei 26 comuni montani teramani hanno eletto alla presidenza per il prossimo quinquennio Moreno Fieni 34 anni originario di Isola del Gran Sasso esponente del PD Fieni è stato votato da entrambi gli schieramenti politici e promette un forte rilancio delle attività di progettazione e programmazione dell'ente il consorzio BIM come sostiene i comuni della montagna teramana allora il consorzio BIM è un consorzio obbligatorio di enti locali che nasce dalla legge 959 del 1953 e si occupa di gestire i sovracanoni che vengono dallo sfruttamento delle concessioni idroelettriche e quindi questi soldi che vengono introitati dal consorzio vengono poi ridistribuiti ai comuni soci lei resterà in carica per 5 anni e cosa pensa di programmare per questi comuni bene dicevo ieri nel corso dell'assemblea che ha visto anche la mia elezione che quello che intendo fare è fare in modo che il BIM torni a essere un vero e proprio stakeholder istituzionale cioè un portatore di interessi la dico magari banalmente però questo significa che l'unione fa la forza quando un ente come il BIM si siede su tavoli di concertazione istituzionale quali possono essere quelli delle aree interne visto che abbiamo comuni ricadenti sia nella quarta che nella quinta area interna piuttosto che contratti di fiume contratti di lago contratti di foresta e quant'altro si possa realizzare allora in quel senso rappresentare 26 comuni su quei tavoli può avere una forza diversa domanda di rito la prima cosa che farà la prima cosa che è assolutamente necessaria è l'approvazione del bilancio nell'assemblea consortile perché per tutta una serie di motivi è stato approvato a gennaio dal precedente consiglio direttivo adesso i comuni invece hanno bisogno di queste somme soprattutto dopo quello che è accaduto nello scorso mese di gennaio e quindi velocemente speriamo entro la fine del mese di portarlo in assemblea per l'approvazione ed ora passiamo ai riti della settimana santa e come data tradizione ieri a Lanciano si è svolta la processione del Cireneo Scalzo vediamo nel Vangelo secondo Matteo si racconta che Gesù lungo il percorso verso il Golgota incontrò un uomo di Cirene chiamato Simeone che lo aiutò accollandosi il peso della croce questa pagina del Vangelo continua a rivivere nel passo grave del Cireneo Scalzo che attraversa l'oscurità della notte squarciata dalle luce delle torce portate in processione dai confratelli incappucciati trascinando con sé la croce simbolo del martirio di Gesù Cristo quella del Cireneo è una figura affascinante misteriosa viene interpretato con assoluta immedesimazione dopo una lunga preparazione fisica e spirituale sì perché portare scalzi 25 chili della croce in legno per le vie del centro storico di Lanciano sempre sulla stessa spalla senza mai poggiarla a terra è un compito davvero gravoso la scelta del Cireneo spetta al priore dell'arci confraternita della morte orazione e ricade su colui che durante l'anno ha mostrato più impegno e attaccamento all'arci confraternita dopo la scelta che nessuno può conoscere se non il priore il prescelto viene fatto entrare nella stanzetta del Cireneo per meditare e pregare indossa un saio nero il cappuccio e il cordone di crine nero con il rosario poi in un clima di assoluto raccoglimento viene celebrata la consegna della croce con la formula recitata dal priore ti affido la croce di Cristo segno di amore e sofferenza onora questarci confraternita parole accompagnate dalle preghiere del Cireneo e spesso da lacrime di commozione infine attorno alle 22 la tensione si libera con l'apertura del portone della chiesa di Santa Chiara sulle note del miserere che si mescolano ad un intenso profumo d'incenso da quel momento il sepolcro torna a disposizione della città e la processione può avere inizio con il Cireneo scalzo e incappucciato che viene accompagnato dal suono inconfondibile delle raganelle e dalle note delle marce funebri ed ora apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara non ce l'ha fatta recuperare Ben Ali il giocatore libico è stato colpito da un attacco influenzale nella settimana e non è convocato da Zeman per la partita dell'Adriatico contro la Juventus il giocatore salterà il match al pari dello squalificato Bovo e dei lungodegenti Pepe Vitturini e Gilardino potrebbe toccare a Brugman giocare esterno coda favorito invece su Fornasier per giocare in mezzo alla difesa recuperato Baibac davanti che però difficilmente giocherà titolare molto probabilmente il centravanti sarà Cerri andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Zeman nella tradizionale conferenza stampa pre-gara in cui ha parlato anche del suo rapporto con la Juventus dicendo non sono loro nemico ma di chi imbroglia ma non è mai come tutte le altre credo che è da anni miglior squadra italiana è la più forte l'ha dimostrato in questi anni quindi fa piacere incontrarla la squadra è club organizzato penso che oggi hanno tutto per andare avanti non solo sul piano economico ma anche sul piano di organizzazione un club che è all'avanguardia in Italia quindi gli altri possono prendere esempio anche se non avranno mai le entrate che c'è la Juventus è allegri per me è bravo sfrutta grande potenziale che ha riesce a gestirli bene anche a secondo delle partite trova sempre soluzioni giuste se le dà fastidio questa cosa lei si ritiene un nemico della Juventus no io mi sento nemico di quelli che imbrogliano io penso che se si vanno a leggere le carte in procura la gente se ne rende conto oppure quelli della Juventus ma contro la Juve è difficile è difficile per tutti figuriamoci per noi ma io spero che la partita ha solo nome Juventus richiama la concentrazione ha la voglia di far vedere qualche cosa vabbè io penso che siamo leggermente migliorati io vorrei un'altra velocità ancora il calcio è cambiato perché ci vogliono tanti soldi per poter prendere i giocatori che poi io dico il calcio inglese è il calcio più ricco spendono di più penso che sovvenzionano le squadre di Europa però loro non vincono niente quindi quasi una più pregata cercare qualcosa dall'estero e non so se bastano i soldi io ripeto la Juventus ha soldi e organizzazione se non c'è organizzazione è difficile ampio turnover invece per la Juventus che però non farà turnover in attacco infatti ci sarà il trio Higuain di Bala e Manzuki ci importa Allegri annuncia Neto al posto di Buffon in difesa certo Barzagli ballottaggio Rugani e Benatia altro ballottaggio quello tra Lemina e Quadrado nella conferenza pre-gara Allegri ha anche ricordato il precedente del 93 contro i bianconeri quando lui era in campo con il Pescara Pescara che vinse sonoramente per 5 ad 1 è una partita che per noi vale 3 punti è una partita dove se non sbaglio c'è già un precedente che la Juventus viene da un post finale UEFA o roba del genere dove a Pescara prese una bella batosta e quindi domani bisognerà esserci con la testa perché la partita più importante da qui alla fine dell'anno è sempre quella successiva quindi dopo quella di Barcellona al momento la più importante è quella di domani con il Pescara tra l'altro il Pescara in questo momento è una squadra che sta bene fisicamente che corre e gioca per dare degli schiaffi all'avversario e quindi non è una squadra che subisce e noi bisognerà essere molto bravi a giocare questa partita noi eravamo già retrocessi però finisce in comuna dimostrazione che queste partite sono trappole trappole se l'affronti in un modo sbagliato non sono trappole se l'affronti con la determinazione giusta i ragazzi sono molto responsabili stamani ha fatto un buon allenamento e credo che domani la squadra farà una partita intensa sia sul piano fisico mentale soprattutto che è quello che conta e tecnico per portare a casa tre punti e ho segnalato mi sbaglio uno o due gol e fu una partita strana faceva molto caldo e la Juventus credo che venisse da una finale di UEFA o una roba del genere o ce l'aveva dopo non mi ricordo noi eravamo una squadra che era già retrocessa ma che aveva delle giocavamo ancora discretamente bene e quando poi dopo trovi quelle squadre che giocano senza più pensieri senza più direi pressioni del risultato se non la affronti in modo giusto è tutto da perdere allora per quanto riguarda domani gioca Neto in porta davanti gioca sia Di Bala che Iguaini che Mandzukic quindi Quadrato ho il dubbio se gioca lui o gioca Lemina a destra ed ora la Lega Pro questa mattina il Teramo ha effettuato la seduta di rifinitura in vista della partita importantissima di domani contro il Forlì non ci sarà il centrocampista Spighi al suo posto Ugo Lotti sceglie Tempesti ma l'ex Tutto Cuoio agirà alle spalle della prima punta Sansovini con lo spostamento di Fratangelo sul lato destro in difesa a sinistra rientra Carcalis con Sales che torna a destra e con coppia centrale formata da Caidi e Speranza sulla partita di domani andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Ugo Lotti Mi sarei stata definita quella con il Forlì la gara probabilmente più importante dell'anno come si prepara una gara del genere? In maniera come abbiamo preparato tutte le altre partite i ragazzi sanno perfettamente che non possiamo più sbagliare abbiamo avuto un passaggio a vuoto che ha pregiudicato il percorso un pochettino il percorso che stavamo facendo adesso abbiamo questa grande opportunità l'ho detto dipende solo esclusivamente da noi è normale che se non dovessimo riuscire a vincere la partita dovremmo pensare in ottica un pochettino diversa perché la classifica è quella abbiamo preparato la partita come abbiamo preparato le partite precedenti cercando di pensare a quello che dobbiamo fare perché stiamo in un buon momento al di là dell'ultimo risultato e dobbiamo cercare di riprendere il cammino possiamo dire che l'ultimo risultato benché negativo non ha fatto pagare il dazio che ci si aspettava al Teramo probabilmente anche gli incassi delle altre partite che potrebbero essere decisivi anche nelle prossime giornate è stato un fattore ovviamente il grande rammarico è che come si era messa la partita un po' di difficoltà le abbiamo avute perché la Reggiana è venuta con un assetto molto chiuso noi abbiamo trovato le nostre difficoltà che sono delle difficoltà che abbiamo un pochettino sempre avuto quando troviamo delle squadre chiuse la partita si era incanalata è venuto fuori questo risultato probabilmente un punto alla luce dei risultati che c'erano sugli altri campi a questo punto sarebbe stato oro però non dobbiamo guardare quello che è stato adesso dobbiamo guardare alla prossima partita è normale quando si è in una posizione di classifica del genere bisogna fare risultato prima di tutto noi e poi è normale che se le altre davanti continuano a vincere o fanno come noi è normale che diventa difficile che Forlì ti aspetti un Forlì chiuso che attenderà il Teramo oppure propositivo per cercare il risultato positivo ma guarda io non mi sono fatto un'idea perché ho visto molte partite del Forlì ha avuto un periodo a metà campionato in cui era una squadra arrembante una squadra che ha fatto ha scalato le posizioni in classifica perché se pensate alle prime giornate era l'ultimo staccato poi ha avuto dei risultati molto sorprendenti adesso probabilmente ha cambiato anche assetto tattico non so con quale assetto verrà a giocare qua se con i tre difensori o con i quattro ai ragazzi ho detto che poco importa chi troviamo l'assetto di fronte o che squadra troviamo di fronte noi sappiamo che partita dobbiamo fare punto e basta non avranno Bardelloni e Capellubo che sono squalificati però anche in Casa Teramo insomma c'è questa assenza di spighi sbagliamo se diciamo che si tornerà un po' all'antico il turnover per il momento accantonato ma no non è stata una questione di turnover è proprio una questione di far respirare un pochettino perché tre partite in una settimana poi abbiamo cambiato due giocatori abbiamo avuto degli infortuni durante la settimana col fatto appunto di questi piccoli acciacchi era logico cercare di cambiare qualche cosa abbiamo l'assenza di spighi che è un giocatore che per caratteristiche ci compensava determinati movimenti determinati raccordi tra il centrocampo e l'attacco spero che quelli che giocheranno si facciano trovare pronti perché torna a ripetere si sono allenati bene di conseguenza io non ho particolari preoccupazioni da quel punto di vista è tutto anche per l'edizione della notte del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con i TG alle ore 14 alle 19 e alle 23 ovviamente c'è poi diretta stadio per seguire la partita fra Pescara e Juventus e anche la Lega Pro con la partita del Teramo contro il Forlì grazie per essere stati con noi buona serata grazie per la visione